eccoci qua eccoci nuovamente a questo appuntamento che spesso nel weekend non sempre non sempre con questa frequenza non sempre con questo numero di quiz affrontiamo intanto diciamo mentre attendiamo chi si sta collegando vedo già sono tardi sia su youtube che su instagram se qualcuno ha qualche domanda qualche curiosità e poi iniziamo se riusciamo a fare una batteria da 30 quiz intanto in attesa del concorso agenzia delle entrate che da domani è nel vivo intanto un avanti tutta a quelli che si stanno preparando per questa prova che è incentrata sui quiz di varie materie e poi domani vedremo anche come è andata e se la preparazione che abbiamo fatto è stata utile vediamo saluti a valentina da instagram un orecchie quiz un occhio alla finale di tennis già è vero non so se viene data da su qualche canale in chiaro poi magari dopo lo andiamo a vedere se lo volete scrivere nei commenti infatti la fotografa ci dice domani alle 14 e 30 l'agenzia delle entrate ok ok paura paura deve esserci però insomma uno va con la coscienza a posto se ha studiato e poi mai preoccuparsi delle cose che non dipendono da noi una volta che si è dato il meglio intanto stiamo andando verso i 200 partecipanti a questa diretta due dirette consecutive ci sto prendendo il gusto alice è proprio ha beccato la giornata perfetta fra l'altro oltre alle dirette ne ho fatte anche altre di commento su varie tematiche può dirmi la definizione di preambolo e motivazione non c'è una definizione c'è una motivazione sono le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di un provvedimento il preambolo è quella parte diciamo iniziale che precede la motivazione che indica le norme che legittimano il potere di intervento molto spesso preambolo e motivazione si confondono la motivazione assorbe il preambolo sono ricostruzioni su quella del preambolo soprattutto diciamo stilistiche dottinari non troverete nei quiz preambolo e motivazione raramente io ho la prova il 24 ci dice gloss avanti tutta dice ale vediamo anche qui sono un posto fisso grazie proprio per avermi motivato grande rocco ok grande rocco accordi fra le pubblica ora non è che si può fare i passi oggi è dedicata ai quiz quindi fra qualche secondo iniziamo era se avete qualche domanda diciamo sull'organizzazione sulle modalità ok i commenti sono preziosi anche per noi posti fissi o quasi posti fissi perché in prova ogni tanto si prendono a pausa l'iperattività un benessere e oggi ho fatto un sacco di cose io sono iperattivo ma poi lo faccio nella vita privata per cui oggi con alessandro siamo andati in giro per scooter fatto un po di camminate ho incontrato due follower chiamiamole così due studenti che ce l'hanno fatta che se erano a firenze quindi siamo andati a trovarli l'abbiamo accompagnati ai giardini di boboli allora giardino di boboli vediamo 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 ade e pochi giorni dopo asmel sono fusa dice ale ok bene adesso prendiamo il ritmo perché andremo abbastanza veloce anche se sono quiz da quattro opzioni quindi tenetevi pronti intanto ringrazio tutti coloro che hanno fatto condividi che mettono like che parlano bene in generale delle dirette se si sentono di parlarne ovviamente non sono tenuti ma devo dire ringrazio per gli ottimi riscontri di chi apprezza metodo strumenti che vengono messi a disposizione è uscito un concorso di amministrazione penitenziaria esiste un corso certo esiste un corso mi sembra si chiami omnia 09 underscore 04 quello per l'ufficio del processo che va bene neanche per l'amministrazione penitenziaria va bene bando alle ciance iniziamo con i nostri quiz adesso vi impallo quelli successivi e vi metto la domanda pronti attenti via allora l'accesso civico comma 1 articolo 5 del decreto 33 a richiede sempre la motivazione dell'istanza di accesso b richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale chiesto l'accesso c allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico d esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione ad un controllo generalizzato a b cd vediamo qual è la vostra risposta attenzione agli specchietti per le allodole dicasi specchietti per le allodole le risposte esatte a una domanda diversa vedo anche su instagram qualcuno è caduto nello specchietto bene bene io dico sempre si impara dagli errori la domanda sull'accesso è frequentissima se curiosità se non arrivasse all'ora la busta che si estrae contiene domande su tutte le materie generalmente sono materie differenziate è solito problema ma che ve ne frega ok che ve ne frega qualunque cosa accada non dipende da voi e quindi non vi fate domande da gossip da bar sport dei concorsi che non servono a niente se non per generare in voi stessi ansia inutile ansia già ce ne avete tanto nello studio quindi non vi fate domande soprattutto non state a sentire quello che raccontano gli altri tutte nella maggior parte dei casi enormi sciocchezze allora pensavo a una percentuale maggiore di persone che avrebbe risposto correttamente a questa domanda l'accesso civico a cosa serve o cosa richiede o non richiede o quale scopo ha queste sono le varie opzioni valentina vedo su youtube cliccare sulla striscia blu del sondaggio aspetto 130 risposte soprattutto la prima stiamo un po più lenti poi acceleriamo nelle risposte domani pomeriggio provate consiglio domani mattina quiz studio leggi tutto tutto a chi dice prima del concorso riposarsi secondo me è una sciocchezza io prima dei concorsi studiavo a palla ma fino a un istante prima importavo libri appunti eccetera eccetera fino all'istante prima la memoria ram tutto quello che riuscite a fare la mattina lo ricordate come fresco e magari non avete niente poi di rimorsi a avessi letto qualcosina in più la mattina anche solo per non avere rimorsi io fino all'ultimo secondo allora bravissima vania la b era la risposta ad altro quesito allora bene interrompiamo il sondaggio vedo un enorme numero di sinner gioco vice chiarelli le domeniche perfetti fra l'altro chi mi volesse sfidare a tennis io gioco qua anche a tennis e quindi quando sono nel chiarelli tour si vuole organizzare un doppio meglio però diciamo disponibile no paddle no paddle bene terminiamo il sondaggio il quale ci racconta che il 64 per cento ha risposto correttamente la c allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali in realtà l'accesso civico ordinario è un accesso finalizzato alla verifica del rispetto delle norme trasparenza diciamo la c è più la risposta per l'accesso civico generalizzato ma comunque è la meno sbagliata delle altre perché la a è sbagliata non richiede motivazione la b è sbagliata perché è l'accesso documentale la d è sbagliata esclude perentoriamente l'utilizzo per sottoporre questo è l'accesso documentale quindi è la foto che io posso fare le sfide culinari su quello io sono più debole su quello sono più debole allora bene andiamo alla numero due la numero due che ci dice la condotta non conforme nell'ambiente di lavoro ai principi di correttezza verso superiore o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi comporta per il dipendente a il licenziamento senza preavviso b la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa ad importo pari a quattro ore di retribuzione la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a due anni o il licenziamento con preavviso quale delle quattro opzioni alla domanda numero due non guardate che la domanda è riferita al contratto collettivo della sanità perché questi quiz sono per un concorso di sanità ma valgono per tutti i comparti vediamo 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 tanto mariada sostiene che il padre è il futuro si diciamo è una moda è una moda dieci anni e sarà sostituito dal pick ball o da che ne so il tennis fra droni o fra automi vedremo tra intelligenze artificiali comunque la sfida è lanciata chi vuole sono a disposizione allora vediamo alla risposta numero due accento che hanno risposto interrompiamo al padre preferisco la padella dice la fotografa benissimo allora questa era più semplice diciamo apparentemente la più semplice quella di prima però qui scartando le estreme la condotta non conforme alla correttezza ora non può dar luogo al licenziamento per essere licenziati nel pubblico impiego si devono fare cose gravissime quindi scartando la a e la d licenziamento ecco rimanevano le due intermedi la risposta giusta è la sanzione dal minimo del rimprovero verbale dipende che condotta non conforme se sei andato a lavorare in mutande diciamo non è una bella cosa però ecco diciamoci magari c'è un rimprovero verbale o se hai il responsabile ti ha detto una cosa e tu gli hai detto un vaffa ok magari un rimprovero verbale se gli hai messo le mani addosso insomma si sale quindi la due ce la siamo sfangata abbastanza bene tipo rubare o picchiare qualcuno no no ma sì sì ma picchia forte è per essere licenziati ci vogliono ci vogliono le ferite il sangue o il gdpr riconosce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso il trattamento i dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere le informazioni inerenti alla finalità del trattamento in applicazione di quale principio o di quale diritto a il diritto all'oblio b il diritto di limitazione di trattamento c il diritto di accesso di il diritto di opposizione per coloro che vanno al concorso all'agenzia non comprate le bottiglie di plastica per favore portatevi la borraccia quando arrivate la riempite in qualunque fontanella pubblica vi idratate tantissimo più del normale qualche ora prima dell'inizio e vi portate la borraccia piena all'interno della prova mi raccomando mi raccomando la componente fisica di preparazione fisica è importante quanto quella mentale e quella di preparazione bene 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 intanto ringrazio anche tantissimi che sono su instagram che seguono anche quelli tutti toc che stanno aumentando e ovviamente i 75 mila su youtube l'anno prossimo arriviamo a 100 mila probabilmente ma secondo lei per il concorso ade ci potrebbero ci potrebbero essere molte domande di penale procedura civile donato domanda da bar non fa non risponde a domande da bar ma certo ci possono essere ma uguale anche se ce ne due e le sbaglio sono fuori quindi che siano due o venti non è che ora a 24 ore dalla prova o a 48 ore uno si mette a studiare penale se non l'ha fatto prima quindi mai mai auto lesionarsi con domande di questo genere bene 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 allora andiamo a vedere la risposta al sondaggio che questa volta ha falcidiato attenzione perché queste risposte mi ha stupito perché leggiamo un po il diritto di ottenere dal titolare la conferma di un trattamento che lo riguarda quindi se è la conferma di un trattamento io chiedo chiedo se ci sono dei miei dati farò diritto di accesso la diritto all'oblio non ha senso perché non chiedo di rimuovere chiedo solo se ci sono diritto alla limitazione mica ho chiesto di limitare per cui non ho chiesto al titolare di trattare di meno chiedo se ci sono trattamenti diritto di opposizione ancora non mi sto ponendo la conferma che ci sia o meno vedete il trucco era qui la conferma che ci sia o meno è un diritto di accesso mi raccomando seguite tamos manzi che commentano il gdpr articolo per articolo sul mio canale ok bene andiamo al sondaggio quesito numero 4 il quale dice il dipendente del comparto sanità ha diritto in ogni anno di servizio a un periodo di ferie retribuito il dipendente a non ha diritto di fruire delle ferie in più periodi b non ha diritto di frazionare le ferie in più periodi c ha diritto di usufruire di tutti i giorni di ferie nei mesi di luglio agosto di compatibilmente con le esigenze di servizio può frazionare le ferie in più periodi ripeto non riguarda solo il comparto sanità in tutti i comparti del pubblico e in gran parte anche del privato dice questo quindi vediamo un po' se anche ad intuito ci si arriva ricordo un suo video che ne parlava sì ho fatto tantissimi video sul gdpr trovate una playlist nel mio canale youtube gratuita nella versione pubblica sul gdpr poi ho lasciato a professionisti più bravi di me l'approfondimento del commento e mi sono dedicato anche ad altro ecco vedo che questa è sentita e le ferie le conoscete bene subiti nuovi posti fissi già a studiare le ferie allora vediamo la risposta terminiamo il sondaggio sì la risposta giusta è compatibilmente con le esigenze del servizio può frazionare le ferie in più periodi in realtà esiste la possibilità di richiedere nel periodo estivo un periodo di tempo continuativo di ferie ma sempre diciamo concordandole e valutandole in base alle esigenze del servizio in particolare ovviamente nel settore sanità vi immaginate se al pronto soccorso arrivate con l'ambulanza e no sono tutti in ferie hanno preso tutti lo stesso giorno bene la 4 è andata andiamo alla 5 voi segnatevi quante ne indovinate per chi è nuovo perché poi chiederò alla fine quante ne avete indovinate faremo se ce la facciamo 30 domande ma penso di farcela qual è l'organo scusatemi quale dei seguenti è organo delle aziende secondo le disposizioni dell'articolo 3 del decreto 502 del 92 a il collegio di direzione b il consiglio di amministrazione c il comitato di gestione di la conferenza dei dirigenti dell'azienda anche qui se non studiate la sanità non importa cercate a intuito o diciamo in analogia a intanto mariana dice il mio focus è sulle progressioni grande diciamo che le progressioni sono un tema di attualità perché dopo lo sblocco dei concorsi ovviamente abbiamo anche lo sblocco delle progressioni progressioni orizzontali e verticali come si chiama in realtà differenziali stipendiali e progressioni fra le aree in questo periodo molti enti stanno andando in quella direzione intanto ricordo per dovere di cronaca chi vuole mettere mi piace o il cuoricino su instagram mi piace su youtube mi fa piacere mi fa capire quanto sono graditi questi tipi di video rispetto ad altri quindi ho le mie gradatorie e in base a quelle poi decido se fare un quiz o un commento a sentenza o quant'altro quindi se volete mettere like è molto molto gradito se volete condividere quando trovate l'annuncio che c'è una diretta ancora meglio in modo tale da socializzare anche con altri e vediamo allora la risposta corretta risposta corretta che è il collegio di direzione collegio di direzione organo delle aziende sanitarie le aziende del comparto sanità rispetto agli altri che ci sono ma non sono organi cioè soggetti che rappresentano all'esterno la volontà dell'ente a cui appartengono domanda numero 6 questo vi serve anche per capire come vi orientate di fronte a domande su materie diverse da quelle che fate usualmente domanda numero 6 mi dice a norma di quanto dispone l'articolo 1.46 della legge 190 2012 coloro che sono stati condannati con sentenza non passata in giudicato per reati previsti dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale possono fare parte di commissioni per l'accesso e pubblico impiego a sì ma devono preventivamente firmare una dichiarazione con la quale si impegnano a presentare le dimissioni nel caso in cui la sentenza di condanna nei loro confronti passasse in giudicato b sì in quanto la sentenza non è passata in giudicato c no non possono far parte salvo che con compiti di segreteria di commissioni per l'accesso pubblico impiego di no non possono fare parte anche con compiti di segreteria di commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi capiamo un po questa normativa è cattiva intermedia coloro che sono stati condannati non in via definitiva in primo grado ancora non è passata in giudicato non è definitiva la sentenza per reati contro la pubblica amministrazione cosa possono fare nei pubblici concorsi vediamo vediamo come maturate l'intuito vediamo anche su instagram che cosa ci raccontano questa non era diciamo ovviamente nessuno di voi immagino si ricordi a memoria l'articolo 41 articolo 1.46 della legge severino però posso andare a intuito e ritenere se il legislatore il ragionamento è questo se il legislatore ritiene di aver introdotto una norma che prevede la condanna con sentenza non passata in giudicato non dirà che coloro che hanno una sentenza non passata in giudicato possono fare delle cose ma dirà che non possono fare delle cose quindi era la c o la d anche per il tecnicale vedete la c la d sono identiche salvo per una differenza la c si può fare parte della segreteria la d non si può far parte della segreteria ma se uno è stato condannato in primo grado per corruzione magari perché si è fatto corrompere un pubblico concorso anche fare il segretario verbalizzante di una commissione non è proprio il massimo è quindi la d è la risposta esatta quindi pensando alle conseguenze a un caso pratico ci si poteva arrivare vediamo un po 58 di voi per cento di voi ha risposto correttamente domanda numero siete siete allora l'impiegato pubblico che per azione omissione commessa con colpa grave cagioni danno all'amministrazione è tenuto a risarcirlo sì nella misura stabilita direttamente dal consiglio disciplinare organo corrispondente dell'amministrazione no salvo che non incorra anche nella responsabilità penale no l'impiegato pubblico è tenuto a risarcirlo solo l'azione omissione è commessa con dolo di sì vediamo la 7 che cosa ci dice l'impiegato pubblico che per azione o domissione commessa con colpa grave cagioni danno all'amministrazione deve risarcire il danno all'amministrazione e qui e qui vediamo su cosa vi buttate non è così c'è un trabocchetto è c'è un trabocchetto poi lo spieghiamo che potrà trattare in inganno vedo che molti di voi hanno risposto correttamente però si poteva e si può essere tratti in inganno diciamo che la b e la c la scartiamo ora se è commesso colpa grave per cui se hai preso l'estintore per gioco e ci ha iniziato a giocare in ufficio e hai rovinato una stanza e quindi per ripulirla mi costa mille euro non è che te la passi franca quindi se è colpa lieve no se sei inciampato e hai rotto un vetro beh ma camminando normalmente anche no quindi scartando la b e la c è a o d allora qual è il ragionamento da fare per cui la risposta giusta è la d non la a perché il risarcimento del danno è stabilito dal giudice in caso di condanna civilistica ma all'interno della pubblica amministrazione è la corte dei conti con la responsabilità amministrativa contabile non certo il consiglio disciplinare che attienda alla responsabilità disciplinare non civile quindi la era sbagliata trabocchetto perché aveva quel riferimento al disciplinare che non è la risposta corretta a 8 allora la domanda numero 8 dice per espressa previsione dell'articolo 3 comma 6 del 502 a quale organo compete verificare la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e intratate dalla asl a la giunta regionale b il direttore amministrativo c il direttore generale di il presidente della regione vediamo un po come ve la cavate a quale organo compete la verificare la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e intratate dalla asl anche se non state studiando per la sanità è un ottimo quiz perché ci si può arrivare ragionando ho un dubbio su una domanda di contabilità aziendale ma i resi su venditi sono variazioni finanziarie negative ora non mi fate domande in diretta che poi dopo ci distraggono da questo sapete che esiste community per poter fare tutti i quesiti ed approfondirli allora 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 Bene, allora vediamo un po' le vostre risposte. Qui c'è stata la selezione, questa ha fatto la differenza. Allora, proviamo a ragionare e vediamo che cosa si doveva scartare. A quale organo, quindi della ASL, la domanda è a quale organo compete la corretta ed economica gestione, verificare la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introtate dalla ASL. Ovviamente sarà un soggetto interno, questo fa parte del controllo di gestione. Quindi scartiamo la giunta regionale, scartiamo il presidente della giunta regionale. Ora vi immaginate se il presidente della giunta regionale per tutte le aziende sanitarie deve andare a fare questo controllo. Quindi rimanevano i due organi interni, il direttore amministrativo e il direttore generale. Sarà il direttore amministrativo sull'economica o sarà il direttore generale sull'economica? Sarà il direttore generale. La C, 36% di voi, ma il 64%, ahimè, qui ci ha lasciato la risposta per il successo. Quindi adesso deve recuperare, mi raccomando, una si può sbagliare ma poi bisogna farle bene tutte quante. Domandone lungo, vediamo un po', scusatemi. Domandone lungo, adesso mi ridimensiono. Allora, che è la 9. L'allegato 1, articolo 3 del nuovo codice dei contratti, distingue fra procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo. Le procedure ristrette. A. Sono sistemi di acquisizione interamente elettronici. B. Sono le procedure di affidamento nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tali procedure al fine di elaborare una o più soluzioni attra a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte. C. Sono le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. D. Sono le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti o dagli interrogatori con le modalità stabilite dal codice. Domanda complicatissima nella formulazione, ma abbastanza semplice. C. Se avete seguito uno dei miei tanti video, compresi i Chiarelli in Tour, dove ho parlato di appalti. Fra l'altro inizierò a dicembre a riorganizzare i Chiarelli in Tour per, diciamo, da marzo in poi. Vediamo, vediamo un po' le vostre risposte. Fra l'altro le altre sono definizioni delle altre procedure, quindi è una domanda veramente ingannevole. Ma se durante la preselettiva in un quiz a risposta multipla cartaceo sbaglia, segnalo la risposta e me ne accorgo, posso correggerla? Dipende. Dovete chiedere alla commissione. Normalmente, se sbagliate, chi sbaglia paga, questa è regola generale, e quindi non potete correggerla, ma potete indicarne un'altra annullando la risposta. Quindi, invece che prendere il punteggio negativo, almeno prendete zero. Questo di regola è così. Di regola le istruzioni sono, se indico due opzioni, la risposta è zero. È come non data, però chiedete alla commissione prima di farlo, ok? Emilia, la fretta, ahimè, la fretta serve, serve nei concorsi, ma senza esagerare. Il controllo di gestione è sempre interno all'ente, yes, confermo, Matteo, bravo a precisarlo. Allora, qui tecnicale, se adottate il tecnicale, ovviamente ne scartate una, la A che non c'entra niente, e poi vi concentrate sulle altre, soprattutto la B e la D, direi. La B e la D, allora vediamo la risposta, la risposta sono le procedure nelle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e poi viene ammesso alla successiva fase delle offerte. Ovviamente non era la B di Bologna, perché c'è la parola dialogo ed è il dialogo competitivo, invece mi ha chiesto le procedure ristrette, ok? Quindi diciamo che appalti, appalti, mi raccomando, seguite bene la materia degli appalti. Domanda numero 10. Allora, vediamo se riesco, scusatemi, a spostarmi per farvi la domanda numero 10, sì ce l'ho fatta. Allora, si va in costituzionale. Bene, a norma del disposto dell'articolo 94 della Costituzione, che non ho ancora letto nel Chiarelli legge la Costituzione, il Governo deve avere la fiducia A del Presidente del Senato della Repubblica, B dei Presidenti delle Camere, C del Presidente della Repubblica, D delle due Camere. Vediamo un po' qual è la vostra risposta. Intanto, benissimo, siamo tantissimi, siamo tantissimi, la metà anche ha messo like, quindi ringrazio tutti e tutti, anche chi non ha messo like e non lo vuole mettere, nessun problema, ma chi se ne fosse dimenticato, accetto volentieri. Rispondete alla risposta e poi mettete like, se vi piace, o il cuoricino su Instagram. Grazie, vedo che stanno arrivando anche su Instagram. Questa ad occhi chiusi, dice anche solo per sentito dire al telegiornale, in effetti questa è abbastanza semplice. La fiducia il Governo la chiede A, così come la Giunta la chiede A. La risposta corretta è alle due Camere, quindi il rapporto di fiducia è fra Parlamento e Governo. La risposta è le due Camere, non i Presidenti delle due Camere, viene votata per appello nominale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la domanda numero 11, adesso mi sposto in alto, mi dice A norma di quanto prevede l'articolo 40 del contratto collettivo nazionale della sanità, durante il periodo di prova le parti possono racedere dal rapporto di lavoro? Interessante periodo di prova. No, A, no. B, solo il dipendente può racedere dal rapporto di lavoro. C, solo l'azienda o l'ente può racedere dal rapporto di lavoro. D, sì, decorsa la metà del periodo di prova. 11, il contratto collettivo del comparto sanità. È possibile racedere dal rapporto di lavoro? Tanto Elena dice, è sparito subito il sondaggio? Sì, purtroppo l'ho spiegato durante una precedente diretta. Siamo in streaming. In streaming significa che quando io lancio, diciamo, il sondaggio rispetto a quando vedete la mia immagine, il mio video, passano 20 secondi. Quindi apparentemente vi dura poco, soprattutto se siete con una connessione più lenta, non in fibra, dove invece che 20 diventano 40. Quindi vi sembra che duri poco. In realtà io l'ho lasciato anche per uno o due minuti. Questo è un problema di spazio temporale, ok? Di quarta dimensione o di teoria delle stringhe. Quindi difficile da spiegare diversamente. Pubblicità, va bene, aspetto un po' di più. Ogni tanto arriva la pubblicità di YouTube. Non lo so, io non la vedo, quindi non so quando interviene. Me lo dite nei commenti. Allora do qualche secondo in più per evitare che vi perdiate la possibilità di rispondere. A norma dell'articolo 40, durante il periodo di prova, che cosa accade? E la risposta esatta, the winner is, decorsa la metà del periodo di prova. Non è così in tutti i comparti. Ad esempio nel comparto antilocali si può recedere in ogni momento. Nella prima metà del periodo di prova, compre avviso. Nella seconda metà del periodo di prova, per il dipendente, solo per il dipendente, senza preavviso. Quindi questa è una specificità del contratto del comparto sanità. 12. E vai con la 12. Stiamo andando ad un ritmo buono, eh? Siamo a 34 minuti. Adesso acceleriamo. Pronti, attenti, via. 12. Tutti i modelli di carta dei servizi sanitari devono contenere i principi fondamentali stabiliti dalla direttiva sui principi sull'erogazione dei servizi pubblici. DPCM 27 gennaio 94, tra i quali sono compresi A. Il principio di imparzialità e massima economicità del servizio. B. Il principio di eguaglianza e imparzialità. C. Il principio di diritto di scelta e sussidiarietà. D. Il principio di continuità e decentramento istituzionale. La 12, guardate, può fare la differenza. Quindi state attenti perché la 12 effettivamente è un po' l'ognosetta. Quali sono i principi compresi nella carta dei servizi sanitari? Gerlando ci dice poco tempo per rispondere, sì, ma bisogna abituarci anche a questo. A essere smart. Perché ai concorsi si deve rispondere rapidamente e poi avere tempo per approfondire i quiz che si è lasciati un attimo indietro. A. Ok, ok, ok. Vedo che arrivano le risposte. Anche questa è una domanda che farà un po' di selezione. S. Soprattutto perché non studiando nello specifico settore, anche se le carte dei servizi fanno parte delle cose da andare ad analizzare. Vi invito comunque a farlo. Allora, terminiamo il sondaggio con più del 50% di voi che ha sbagliato. La risposta giusta a questo quesito è la eguaglianza ed imparzialità. Ok, la massima economicità del servizio non attiene alla carta dei servizi, è un aspetto organizzativo interno. Quindi qui si poteva scartare perché la carta dei servizi sono ciò che il cittadino si aspetta come erogazione del servizio. Diritto di scelta era un trabocchetto, ok, alludendo al fatto che nella sanità, le prestazioni sanitarie ci sia in certe prestazioni mediche questo servizio. Continuità e decentramento istituzionale è un problema organizzativo, quindi non poteva essere. Domanda numero 13. Adesso mi riposiziono per bene, vediamo un po' e vediamo di fare la domanda numero 13. Che mi dice? Intanto vi metto le opzioni e poi la leggo. Collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo, le disposizioni per l'esecuzione della disciplina del lavoro impartite dall'azienda o dall'ente, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro. Questa è la prima formulazione. Seconda formulazione. Non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si disponga per ragioni d'ufficio. Indicare quali e quali o quale fra i precedenti sono obblighi del dipendente nella sanità. A. Solo il principio 2. B. Nessuno. C. Solo l'obbligo 1. D. Entrambi. Intanto io mostro a Instagram. Non vedono le domande, però possono vedere il backstage. Quindi faccio vedere Johnny. Johnny, saluta. Saluta gli amici di Instagram. Saluta anche gli amici di YouTube. Lo vedete. Eccolo qui. Intanto faccio vedere agli amici di Instagram. Il backstage. La mia postazione. Ok, questa è la mia postazione di lavoro. Voi di YouTube? No, avete il vantaggio di avere le domande. Ma l'avrete vista, chi ha visto qualche mio video non mostrata. Poi farò un'altra diretta anche come consiglio. Spesso viene sottovalutata. Soprattutto nelle pubbliche amministrazioni spesso abbiamo computer lenti, un solo monitor. E poi ci si lamenta che si valla lenti. Una cosa assurda. Non visualizzo il sondaggio. Chi non visualizza il sondaggio deve uscire e rientrare nella chat. Nel frattempo, qui siete andati, penso, tutti di tecnicale in una maniera assurda, perché, oltre a essere abbastanza intuitivo, che siano entrambi principi che rappresentano obblighi del dipendente nel comparto sanità e non nel comparto sanità. E quindi la risposta giusta era la D di Domodossola. Andiamo alla numero 14, che mi dice, questo. La 14 è, a norma di quanto disposto dall'articolo 50 del contratto collettivo, il dipendente ha diritto di richiedere un permesso retribuito per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale facoltativo? A, sì, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, fino a 8 giorni l'anno, sì, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, fino a 30 giorni l'anno, D, C, no, ha diritto a richiedere un congedo, D, no, ha diritto a richiedere un permesso non retribuito. A cosa ha diritto il dipendente, se ha diritto, riguardo a aggiornamento professionale facoltativo nel settore sanità, che è molto particolare, più particolare che il settore enti locali? Intanto, prof, sto seguendo sia da YouTube che da Instagram, grande, Alessandra, voleva vedere il backstage, vi mostrerò anche altre particolarità, prima o poi. Johnny che, c'è un fan club di Johnny, devo dire, vero Johnny? Johnny, 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 a lui piace stare qui oppure mettersi qui in colo? Allora, fra un po' quando si è stufato, verrà qui in colo. Stato, Johnny, ti salutano, ti salutano dalla diretta. Mentre io vi do un po' di tempo, questa, se usate il tecnicale, ovviamente, più difficile, diciamo, perché ci sono binaria, ci sono due opzioni simili, A e B, due opzioni simili, C e D. Quindi si deve capire se si ha o meno diritto e poi scegliere fra quelle due opzioni. Secondo una logica abbastanza di ragionevolezza, ecco, direi che in questo caso si poteva arrivare agli 8 giorni l'anno, ora 30 giorni l'anno, mancare per aggiornamento professionale facoltativo, quindi che non determina obblighi, crediti formativi. Quindi diciamo che è un po' troppo, è un po' troppo. Domanda numero 15 E siamo alla metà. Si va nella 241 del 90. Ai sensi della legge 241 del 90, articolo 22, il diritto di accesso è esercitabile. A. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento finale. B. Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di tenere i documenti. C. Anche quando cessa l'obbligo di tenere i documenti. D. Fino a quando ciascuna P.A. Suo insindacabile giudizio decide di tenere i documenti amministrativi. Quali sono i casi in cui è esercitabile il diritto di accesso? Ho spaccato l'evidenziatore. Troppa fuga. Tanto Carmine mi avvisa che c'è pubblicità, quindi vi do qualche secondo in più per rispondere. C. Qui c'è un piccolo piccolo specchietto per l'allodo. La domanda è molto semplice, ma con un piccolo specchietto per l'allodo. Domanda classica. Quella sull'accesso è una domanda classicissima. Poi vi annuncio già che quelle successive riguardano un po' il procedimento, un po' gli appalti, un po' la contabilità. Quindi è un bel set di quesiti questo. Suggerimenti per mantenere alta e costante la preparazione. Motivazione. Svegliarsi la mattina e dire lo devo fare. Lo devo fare come obiettivo, lo devo fare per il posto fisso, lo devo fare per la mia famiglia, lo devo fare perché mi sono in posto che lo devo fare. La maggior parte è motivazione. Quando uno ha la motivazione, e gli strumenti ovviamente, uno può essere anche motivato, ma se non fa nulla dalla mattina e sera non serve, allora riesce anche a superare i momenti di stress, di fatica, di chi me l'ha fatto fare, eccetera, eccetera. Quindi, e appassionarsi. Se uno riesce a appassionarsi al mondo del diritto, riesce anche a seguirlo meglio. Quindi questi sono i consigli, non sono legati a studiare questa materia o quest'altra. Non esistono scorciatoie. Esiste un'attitudine, un atteggiamento, un approccio che poi paga. Non sarà il primo concorso, sarà il terzo, sarà il quarto, ma l'approccio paga sempre. E paga l'approccio di quelli che hanno risposto B, fino a quando la P.A. ha l'obbligo di detenere i documenti. Ovviamente i 30 giorni erano un trabocchetto riferiti al termine per la richiesta. di accesso documentale. Quindi la risposta B è la risposta corretta. Andiamo alla domanda numero 16. E quindi abbiamo fatto il giro di boa. Faremo 30 domande. Adesso un pochino più veloci. Pronti, attenti via. Domanda numero 16. A norma del contratto collettivo, articolo 39, il contratto di lavoro individuale deve indicare tra l'altro A. Le ore di straordinario non retribuite che il lavoratore è chiamato a effettuare. B. Se sia previsto o meno il diritto di partecipare a assemblee sindacali. C. La tipologia del rapporto di lavoro. D. Se sia previsto o meno la monetizzazione dei permessi per motivi familiari. Questa, che può sembrare difficile in realtà, facile. Valentina, io mi sono appassionata persino agli appalti, ma a tributario non riesco proprio. Eh, lo so, lo so. Tutti hanno il loro punto debole, che sia l'economia, che sia la scienza delle finanze, il tributario, può essere i servizi demografici, la polizia, le sanzioni. Prof. Fa anche per il concorso per l'ufficio del processo? Sì. Omnia 09 underscore 04. Ve lo metto in link. Mi sembra 04. Sì, eccolo qua. Vi metto il link. Corso per l'ufficio del processo. Poi, vediamo un attimo. In un concorso per il comune ho chiesto l'accesso alla mia videoregistrazione. Me l'hanno negata dicendo che dovevo chiederla nelle 24 ore. Mi sembra assurdo. Ma, diciamo, è una sua garanzia di riservatezza. Perché il decorso di 24 ore è stata cancellata. Quindi non è stato dato l'accesso perché il documento non è più disponibile. Se era nell'informativa sul trattamento, è stato un trattamento corretto. Dopodiché, chi se ne frega. Ok? Se uno continua a guardarsi indietro, perde un sacco di tempo. La mia bestia nera sono gli appalti. Quando avevo finalmente imparato qualcosa, hanno cambiato la legge. Eh, è divertente. Il mondo si rivertono a Roma anche per questo. Lo fanno anche e soprattutto per chi fa formazione come me. Se no, finiremmo dopo un anno. Invece, ogni anno ci cambiano le norme. Lo fa interamente lei? No, la maggior parte. La maggior parte sì, ma alcuni corsi sono fatti anche da altri. Fate anche i corsi da altri. Non mi fate monopolista dei corsi. Perché vi serve anche sentire le cose dette da altri. Allora, però, qui mi avete distratto. Però, avete risposto in gran parte bene. La tipologia del rapporto di lavoro. Perché? Le ore di straordinario, fra l'altro, assurde. Non retribuite che il lavoratore è chiamato a effettuare. Ma non esistono. Se sia previsto o meno il diritto di partecipare all'assemblea, è un diritto. Se sia previsto o meno la monetizzazione dei permessi per un diritto, non esiste la monetizzazione. Quindi rimaneva la C, scartando tutte quelle sbagliate. Abbiamo la numero 17, che è di contabilità. Attenzione, domanda di contabilità. Che dice? In contabilità finanziaria. È la fase della gestione dell'entrata consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Questa roba qui è A, il pagamento, B, il versamento, C, l'ordinazione, D, la liquidazione. Cos'è questa fase? In contabilità finanziaria. La fase della gestione dell'entrata consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. E questo vale sia per la sanità che per gli enti locali che per lo Stato. Miagola Johnny avrà fame? No, no, non ha fame. Lui conosce tutti i ritmi, tutti i momenti. Miagola a volte perché lo tocco. Vero Johnny? A volte non vuole essere toccato. Vero no, è stato zitto. Allora... Prof, il COD 100 e il COD 118 per la contabilità? Quanto dura ogni lezione? Dei dubbi? Allora, contabilità se la volete fare bene, bene, diciamo, da 5 stelle, inteso come hotel 5 stelle, COD 100 e COD 118, tutte e due. Tutte e due. COD 100 contabilità per primo e il 118 l'armonizzazione contabile. Se volete fare una versione intermedia, COD 100. Il 118 è un approfondimento. Se volete fare un mix, COD 110, che è la versione ridotta della contabilità, è COD 118. Se non avete voglia di fare niente, non li prendete. Allora, bene, bene, bene. Molti di voi hanno visto il trabocchetto, quindi chi ha studiato contabilità, questo è semplice. È il versamento. Impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento, ILOP, sono tre fasi della spesa. L'unica fase dell'entrata in questa opzione era la B e quindi non può che essere la risposta esatta. Quindi nella cattiveria della domanda, la domanda poi per chi ha fatto contabilità era sufficientemente semplice. 18. Codice degli appalti nuovo. Ai sensi dell'articolo 37 del codice, il programma triennale per gli acquisti di beni e servizi, deve essere pubblicato sul sito istituzionale? A. No. Non necessita alcuna forma di pubblicazione. B. Sì. È nella Banca dati nazionali dei contratti pubblici. C. No. Deve essere solo trasmesso all'ANAC. D. No. Deve essere solo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Andiamo a vedere il 18. Volevo chiederle, in una presa elettiva con questionario e foglio risposte, è prevista la presenza di testimoni per l'abbinamento delle prove? Respiro. Sì, ma chi se ne frega. Vi assicuro che se un commissario vuole truccare un concorso non sarà perché mancano testimoni. E soprattutto, se voi sapete rispondere a quelle domande, non c'è persona che possa truccare, perché se sapete le 30 risposte, rispondete a 30 e prendete 30. Quindi fregatevene. Queste sono tutte cose che uno si racconta per poi dire, eh, io ho fatto 21 perché non c'erano i testimoni. Non lo dico ora per chi ha fatto il quesito, lo dico per tutti ora. Parlo a tutti, non parlo a chi fa il quesito. Parlo a tutti. È un sacco di gossip inutile che porta soltanto a ansietà e sconfitta, spesso meritata, non dovuta a problemi procedurali, che non ci sono nella maggior parte dei casi. Perché chi vuole truccare lo fa e non ve ne accorgete nemmeno. Ok? Questo sappiate. Scusatemi, ogni tanto lo faccio con vehemenza, ma per il vostro bene, perché sia chiaro il messaggio. Allora, la numero 18 è abbastanza semplice, abbastanza intuitiva, nel senso che il programma triennale è atto fondamentale, poi gli appalti sono il principale strumento di corruzione, per cui tutto ciò che viene fatto viene pubblicato. Quindi l'unica che è sì è, diciamo, la B, sì, e anche nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ci mancherebbe che il triennale non debba essere pubblicato come tutti gli altri da parte. 83% di lui ha risposto sì, però insomma un 20% circa ha sbagliato. Mi raccomando, gli appalti, come vedete, iniziano a esserci banche dati già con il nuovo codice. Domanda numero 19. Quale dei seguenti documenti espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati nel Piano Sanitario Nazionale secondo il Decreto 502? A. Progetti e obiettivi adottati dal Ministero della Salute. B. Schemi o progetti di piani sanitari delle singole regioni. C. Relazione sullo Stato Sanitario del Paese. D. Piani sanitari delle singole province. La domanda è quale dei seguenti documenti espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano Sanitario Nazionale? Bisogna ragionarci, è facilissima se non vi fate prendere dal... Oddio, chi ha mai sentito parlare di questa roba? Vani, lo dice... Calma. Quali cod per istruttore tecnico a 3D? Non cod. Omnia 02. È il pacchetto migliore, più adatto per la preparazione che comprende tutti i corsi per enti locali scegliendo come corso gratuito, omaggio, che è compreso il COD019 che è il corso per tecnici dove c'è espropriazione, edilizia e sicurezza sul lavoro, eccetera, eccetera. Bisogna fare yoga anche. Ho messo il link dell'Omnia 02 per chi fosse interessato. E attenzione, questa è la domanda che fa la differenza. Allora, secondo me è una domanda facile è una domanda facile non perché io conosca l'articolo 1,12 del 502 ma perché se avete imparato le tecniche che ho tento di raccontarvi cioè si leggono le opzioni si rilegge la domanda nella domanda c'è uno o più parole che richiamano chiaramente una sola delle opzioni ci arrivo abbastanza bene non dico bene ma abbastanza bene Allora, proviamo a ragionare intanto vi blocco il sondaggio come vedete un terzo addetto C un terzo addetto A un terzo addetto B Allora espone i risultati è ovvio che nella domanda la parola chiave era risultati risultati quindi progetti obiettivo che c'entrano progetti obiettivo non possono essere risultati la A non ha senso bene schemi o progetti di piani sanitari delle singole regioni nella domanda c'è piano sanitario nazionale nazionale quindi regioni lo tolgo ma quindi tolgo anche piani sanitari delle singole province quindi la parola risultati e la parola nazionale nella domanda mi portano alla relazione che richiama la parola risultati dello stato sanitario del paese nazionale quindi la C chiaramente quindi molto molto più semplice ignorando completamente la materia questo è un altro aspetto importante spesso nei concorsi si vince non sui quesiti sulla 241 non sui quesiti facili ma sui quesiti che è la prima volta che guardo e senza entrare nel panico arrivo con un po' di intuito ragionamento alla risposta per questo facciamo queste dirette per cercare di far passare questo concetto e queste idee e di esercitarvi su questo domanda numero 20 con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo qual è la fase in cui prende avvio il procedimento A la fase dell'iniziativa B la fase decisoria C la fase istruttoria D la fase integrativa dell'efficacia questo voglio il 100% bravissima Giannalisa che ha fatto questo ragionamento però la sanità non è su base regionale che c'entra la domanda era il piano sanitario nazionale poi la sanità non è che su base regionale la materia sanitaria è una competenza concorrente con le regioni la sanità è diciamo un servizio sia nazionale che regionalizzato allora qui non faremo il 100% perché qualcuno magari ha sbagliato pulsante però ragazzi questa sbagliarla ce ne vuole questa sbagliarla ce ne vuole ce ne vuole a termino sondaggio perché qual è la fase in cui prende avvio 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 inizia 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 fase dell'iniziativa inizia c'è poco da fare andiamo alla 21 quindi non è inutile spiegarlo 21 poi preparatevi a dirmi quante ne avete indovinate su tutte e 30 che ci interessano anche molto le statistiche la 21 mi dice la comunicazione di avvio del procedimento mediante comunicazione personale a costituisce un obbligo imprescindibile che comporta sempre la nullità assoluta del procedimento b costituisce una facoltà dell'amministrazione c costituisce la regola generale d costituisce un obbligo solo per i provvedimenti a istanza di parte molto interessante questa 20 può non essere così semplice come appare la 20 tanto io gli amici di insta mi faccio vedere anche il reparto un pochino più caotico delle mie camicie appese e dei miei libri qui sulla scrivania e sempre Johnny che se la dorme qui sopra e la costruzione dall'alto ok bene 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 stiamo arrivando anche qui ai 100 pensavo che questa sarebbe stata molto più semplice in realtà vedo 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 se mi va te la mando, se non mi va non te la mando, quindi la B è infatti solo il 3% di voi, un obbligo che comporta la nullità assoluta del procedimento, a parte quale sarebbe nullità relativa del procedimento, è difficile, però questo imprescindibile assoluto, questo estremismo ovviamente non è così, è un inadempimento che può portare a, costituisce la regola generale con alcune eccezioni, quindi la C è la risposta esatta, quindi le eccezioni sono i motivi di urgenza, le eccezioni sono il fatto che anche la sua omissione non comporta annullamento se non si dimostra che si sarebbe potuto far cambiare le sorti del procedimento, eccetera. Intanto poi rispondo anche alle vostre domande in diretta, mentre lancio la domanda numero 22 che è, scusate, i portatori di interessi privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento, possono intervenire nel procedimento amministrativo? A. Sì, lo prevede l'articolo 9 della 241. B. No, possono intervenire solo i destinatari diretti del provvedimento e i potenziali controinteressati. C. No, possono intervenire solo i destinatari diretti. D. No, in quanto non destinatari della comunicazione obbligatoria di avviso, di avvio. Vediamo la numero 22. Quale corso posso scegliere per GF se la guardia di finanza? Scrivere a formazione-omniavis.com Formazione-omniavis che vi danno tutte le indicazioni. Allora, vediamo come ve la siete cavata. La domanda numero 22 non è complicatissima, più del 70% di voi si ricordava che lo prevede espressamente l'articolo 9, quindi i portatori di interessi privati, dove non siano individuabili a priori, possono intervenire nel procedimento. Quindi è una delle logiche di partecipazione, principio di partecipazione, quindi la risposta giusta. La 23 mi dice quale indicazione delle indicazioni che seguono non è conforme alle prescrizioni del Decreto 502 in ordine al Collegio Sindacale dell'Asla. A. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge. B. Il Collegio Sindacale riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito. C. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. D. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, tutti designati dall'Asla. Leggete bene, mi raccomando. Siamo alla domanda numero 23. Non è facile, bravissimo, bravissimo Glows, anzi bravissima Glows. Questa sarà selettiva. C. C'è il sondaggio Francesca, devi uscire e rientrare se non lo vedi. A. Sì, ho scritto, no, sondaggio 23. La domanda è lo numero 23 che vi sto facendo in questo momento. Domanda numero 23, la cui risposta esatta. Allora, intanto andiamo a vedere quelle sbagliate, nel senso che la domanda è al negativo, non è conforme. Quindi, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, certamente. Il Collegio riferisce trimestralmente alle regioni anche su richiesta di quest'ultimo? Potrei non saperlo, ma appare attendibile. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno è designato dal MEF, oppure è composto da cinque membri, tutti designati dall'Asla. Collegio Sindacale, la risposta è la D. Il Collegio Sindacale non è composto da cinque membri, tutti, tutti, ricordatevi gli estremi, tutti designati dall'Asla, ma ha una composizione mista. Ed è per questo che anche la C è risposta corretta. Domanda numero 24. Ricordatevi, se ogni tanto non vedete il sondaggio, uscite e entrate dalla chat dal vivo che riparte. Pronti, attenti, via. Allora, domanda numero 24 è Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento amministrativo, quelli enunciati dalla 240 lo dimostrano come il legislatore abbia inteso modellare l'azione amministrativa secondo i principi efficientisti e menageriali tipici delle imprese private. Dispone l'articolo 1 che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ai criteri di A. Economicità, pubblicità e pari opportunità B. Efficace e pubblicità C. Economicità, efficacia e imparzialità, pubblicità e trasparenza D. Economicità, efficacia e trasparenza Ora, la prima parte della domanda, che tecnicamente noi toscani definiamo supercazzola, non serve a niente. Ok? Quindi, è soltanto la seconda parte che ci interessa. Intanto io metto un po' a ricaricare il cellulare, che sennò da Instagram mi abbandonano. Vediamo se riesco a posizionarli in maniera tale da non determinare i danni. Ok, dovrebbe andare. Allora, vediamo le vostre risposte. Della numero 24 Quale sarà la risposta? Vediamo se usate anche voi il tecnicale Allora, bene. Diciamo che efficace e pubblicità vanno benissimo, ma un po' pochi. Infatti, nessuno ha risposto la B. Nessuno ha risposto la A. Pari opportunità suona strano. Quindi rimanevano. Quella a sinistra, la C. Economicità, efficacia e trasparenza Più imparzialità e pubblicità Oppure soltanto quelle tre La risposta giusta è la più completa La C tecnicale, nel dubbio, comunque la più completa 25 La 25 che andiamo a vedere E che mi dice Quale carattere proprio dei provvedimenti amministrativi Comporta l'impossibilità di aggredire il provvedimento da parte dei destinatari Ma non l'intangibilità dello stesso Che resta ancora soggetta ai poteri di annullamento e revoca della PA A. Tipicità B. Nominatività C. Efficacia D. Inoppugnabilità Non difficile Non difficile Ragionate quale carattere proprio dei provvedimenti comporta l'impossibilità di aggredire da parte dei destinatari Ma non l'intangibilità dello stesso da parte della pubblica amministrazione Ci si può arrivare Gerlando è sparito il sondaggio Non importa tanto Gerlando L'importante del sondaggio è capire statisticamente le risposte I singoli Voi scrivetevi sul bigliettino Che risposta avete dato E quante ne avete indovinate Perché il sondaggio è anonimo Quindi non è importante che tutti rispondiate Ecco qua Ecco qua Intanto ringrazio gli oltre 200 di media Che stanno seguendo tutta la diretta su YouTube E la cinquantina su Instagram Grazie a tutti quanti Anche a quelli che poi mi mandano i materiali Mi chattano Vengono a trovarmi Tutti quanti Allora Questa ci si può arrivare Poi commentiamo perché Anche qui un 70% buono ci è arrivato Perché L'impossibilità di aggredire da parte dei destinatari Cioè il destinatario non può impugnare il provvedimento Perché ormai sono decorsi i termini Ma l'APA lo può annullare in autotutela Quale sarà quella cosa per cui L'interessato non può impugnare il provvedimento Ma l'APA lo può annullare L'inoppugnabilità Decorsi 60 giorni L'interessato è fregato A meno che l'amministrazione in autotutela Non lo ritiri Inoppugnabilità 26 E andiamo verso le ultime Potete ancora recuperare Dai vediamo poi le statistiche Che cosa ci dicono La 26 mi dice Per espressa di previsione Del decreto 502 Quale dei seguenti documenti indica Gli indirizzi finalizzati a orientare il servizio sanitario nazionale Verso il miglioramento continuo della qualità Anche attraverso progetti di interesse sovra regionale A. La relazione sullo stato sanitario del paese B. Il piano sanitario nazionale C. I progetti obiettivi adottati dal ministro D. Gli schemi e progetti di piani sanitari regionali Delle singole regioni Simile a quella che abbiamo visto prima Quindi quello che conta è la domanda Non la risposta Non l'elenco di risposte che sono simili Leggete bene la domanda E vedrete che è abbastanza semplice anche questo Come vedete quanto più Le domande sono settoriali o specifiche O fanno riferimento a cose che è difficile studiare Tanto più ci si arriva con il ragionamento Come al solito state scrivendo nei commenti Diciamo problemi di lag temporale Ma non dipende appunto dalla trasmissione Ma dalla vostra connessione un po' lenta Rifatevi l'abbonamento Mettete la fibra Allora 26 cosa ci dice la 26 Quale dei seguenti documenti indica Gli indirizzi per orientare il servizio sanitario nazionale Intanto Vania dice Bella batteria di quiz Confermo Confermo È un'ottima batteria di esercitazione Perché variegata Variegata Nessun problema Vania Compra la fibra Allora Siamo arrivati a 100 risposte E quindi possiamo andare a vedere Che ovviamente era il piano sanitario nazionale Piano Cioè indirizzi sanitario nazionale C'è già nella domanda Quindi la B era la risposta esatta Andiamo alla 27 Terza ultima No Quarta ultima Quarta ultima Che mi dice A chi affida l'articolo 6 Della 241 Il compito di esperire accertamenti tecnici Ed ispezioni Ed ordinare esibizioni documentali A Al responsabile del procedimento individuato dal dirigente dell'unità organizzativa Che il procedimento fa capo B In via esclusiva al dirigente dell'unità organizzativa Che il procedimento fa capo C In via esclusiva all'organo competente dell'adozione del provvedimento finale D All'organo di vertice o all'organo politico dell'amministrazione In base all'organizzazione della stessa 27 Che Due Ci sono due specchietti per all'opera Quindi state attenti al 27 Il compito di esperire accertamenti tecnici Ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali Chi Ha il potere Di fare questo Allora Iniziamo a ragionare sulle risposte Se la parola è accertamenti tecnici Notate la parola tecnici nella domanda Non può essere la D la risposta Organo politico Ok Quindi la D la scartiamo per definizione Dopodiché Rimane Ricordate in via esclusiva È un sinonimo di solo Solo Se usate il tecnicale Scartate la B e la C E la risposta giusta è la A È infatti la risposta giusta Al responsabile del procedimento Individuato dal dirigente Dell'unità organizzativa Che potrebbe essere lui stesso Se non ha individuato Un diverso responsabile del procedimento Quindi Andiamo Terza ultima Realmente questa 28 A B C D Il bilancio di esercizio Dell'articolo 26 del decreto 118 Armonizzazione contabile Che ho già commentato Nel cod 118 Si compone A Dello Stato patrimoniale Del conto economico Notate che ci sono in tutte e quattro le opzioni Quindi non me ne frega Queste ci sono Le diversità sono Del rendiconto finanziario E della nota integrativa Del piano degli investimenti E della nota integrativa Della nota illustrativa E del piano degli investimenti O del rendiconto finanziario E del piano dei flussi di cassa Da cosa è composto? Il bilancio di esercizio Contabilità economico patrimoniale Ragioneria Elementi di ragioneria Questo quiz è di una prova reale? Sì È di una prova reale In un'azienda sanitaria Per quale profilo? Mi sembra funzionario Però poi dopo guardo E vi do Conferma Guardo subito Assistente amministrativo Categoria C È una preselettiva Per assistente amministrativo Categoria C Allora Togliamo la C Da queste risposte Perché ovviamente Conte economico preventivo L'aggettivo preventivo Non ci incasta niente Col conto economico Perché sia il bilancio di esercizio È un bilancio consuntivo Mentre rimane Le due più simili La A e la D Tecnicale chiama A Dice Max E infatti La risposta giusta è la A Rendi conto finanziario E nota integrativa Rendi conto finanziario C'era nelle due opzioni La A e la D Ma la nota integrativa È nell'opzione Che ho scartato E quindi Per il Tecnicale Era la risposta A Penultima domanda La numero 29 E poi Ci avviciniamo Alla Lasciarvi liberi Per andare a vedere Sinner Chi ha la possibilità No Non mi avete scritto Se è Diciamo su TV Aperta Visibile a tutti La 29 Mi dice È nullo Il provvedimento Amministrativo Articolo 21 Sepsies Della 241 A Viziato da difetto assoluto Di attribuzione B Viziato da eccesso di potere C Viziato da incompetenza D Adottato in violazione Di legge Quando è che è nullo Il provvedimento Amministrativo Infatti Intanto qui su Instagram C'ho l'effetto Pisa Perché il cellulare Si è spostato E poi Chiudiamo con la 30 Che è un po' complessa Ah Sul Rai 1 Interessante Non so se In questo momento È in diretta Ma insomma Finiamo E andiamo a vederlo Tutti quanti Chi vuole vederlo Ovviamente Chi Nota illustrativa mai sentita No no è fondamentale La nota illustrativa Per spiegare i numeri Altrimenti non si capiscono i numeri Allora Bando alle ciance Questa è molto semplice Mi aspettavo Un maggior successo C'era il trabocchetto D La violazione di legge La domanda numero 30 E qui Mi ridimensiono Dice Il dipendente deve osservare la Costituzione Servendo la nazione con disciplina e l'onore E conformando la propria condotta Ai principi di buon andamento E imparzialità dell'azione amministrativa Questa è la frase 1 Frase 2 Il dipendente deve esercitare i propri compiti Orientando l'azione amministrativa Alla massima economicità Efficienza ed efficacia Indicare Quali o quale Tra i precedenti Sono principi generali Dell'articolo 3 Del DPR 62 2013 Codice di comportamento A Solo il numero 1 È un principio generale B Entrambi sono principi generali C Solo il 2 È un principio generale D Entrambi non sono Principi generali Queste sono domande frequenti Quelle con questi tipi di opzioni Intanto Emilia dice Ho capito domani ci vado per andare No Emilia si va per tentare Dopodiché se non si era all'altezza Si riconosce di non essere all'altezza Le sconfitte fanno parte Della crescita Non andare è sempre sbagliato Grazie Vale Vale Che fa i complimenti per Omnia 04 I pacchetti Omnia sono pacchetti Favolosi Impegnativi dal punto di vista economico E delle ore Da dedicarci Ma vi assicuro che sono Un ottimo investimento Allora Anche qui diciamo che tendenzialmente si va bene sulla B Sono entrambi i principi generali Adesso rispondetemi al sondaggio e poi ci salutiamo Quante 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 Indovinate Su 30 Allora Anche su Instagram scrivetemelo Che è molto utile 29 30 26 28 29 25 Allora Avviamo il sondaggio Così capiamo Perché ripeto sempre I concorsi sono competizioni Non conta Far 27 27 Non è né buono Né cattivo È buono se tutti gli altri hanno fatto 26 È cattivo se tutti gli altri hanno fatto 28 30 Quindi Vediamo un po' Il vostro sondaggio E poi Sigla finale E ci lasciamo Intanto ringrazio tutti quelli che mi seguono Dappertutto Ogni momento Quelli che hanno messo Siete ancora in tempo Like se vi è piaciuto Siamo a 167 Se arriviamo a 200 like Mi fate Un sacco di piacere Ringrazio chi segue anche su Instagram Chi segue anche da tutte e due le parti Anzi su Instagram si merita un altro backstage Un primo piano di Johnny Johnny Non vieni qui da me? Dai Vieni Johnny Ora lo mostriamo in diretta Johnny Vieni 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 Crollato il cellulare Commentiamo Solo i risultati finali E poi ti do da mangiare Allora Tantissimi che si sono Che hanno risposto al sondaggio Siamo oltre i 100 partecipanti Ottimo Allora Termino il sondaggio Il sondaggio ci racconta questo Allora 29-30 Quindi hanno risposto a tutte bene O solo errore Il 2% Quindi solo in 2 Fra 26 e 28 Il 33% Fra 24 e 25 Il 29% 23 o meno Risposte esatte Il 34% Penso che sia una batteria Sì Molto utile Le riproporrò batterie di questo genere Soprattutto nei weekend Ma non solo Vi ringrazio per la partecipazione Vi ringrazio per tutto quanto E ci vediamo alla prossima Avanti Tutta sempre e comunque C'è tutto ? So